Amici di Socialitech, bentornati. Oggi voglio parlarvi delle VPN e nello specifico di NordVPN. Andiamo per gradi. Prima di tutto cerchiamo di capire che cos'è una VPN. Una VPN è un acronimo che significa Virtual Private Network, vale a dire rete privata virtuale. Un servizio che va a criptografare il traffico internet e protegge la nostra identità online. Stiamo parlando di sicurezza. Utilizzando una VPN puoi accedere in modo sicuro alle app, siti web, piattaforme di trattenimento, da qualsiasi parte del mondo. E una connessione di questo tipo ti garantisce appunto sicurezza e privacy. Quindi abbiamo capito in che settore siamo. Quali sono i vantaggi nell'utilizzare una VPN e nello specifico NordVPN? Beh, innanzitutto come abbiamo detto la sicurezza. Tutti i nostri dati rimangono sicuro e lontano da mani indiscrete. La connettività, nonostante noi passiamo attraverso dei server dedicati di questa azienda, non subisce rallentamenti. Quindi andiamo sempre velocissimi. Tutti i dati che viaggiano attraverso i server di questa azienda non sono registrati. Quindi privacy al primo posto. Nessun problema di rallentamenti se siamo gamer e quindi abbiamo la necessità di giocare online. La privacy è sempre al primo posto perché tutti i dati sono assolutamente al sicuro. E se siamo in qualche stato nel quale la nostra libertà di pensiero o di navigazione è limitata, i nostri dati sono limitati e quindi possiamo accedere a siti o a social network chiusi. Non faccio nomi ma avete capito. Tenete anche conto che comunque con un abbonamento noi siamo in grado di connettere fino a sei dispositivi. Quindi possiamo fare un abbonamento per tutta la famiglia. Bene, ma andiamo a quello che ho fatto io in questi giorni. Se vedete io sul mio pc Windows ho già installato NordVPN e una volta aver pagato il mio abbonamento e avendo scaricato il client, poi ci sono anche le applicazioni per i cellulari o per tutte le piattaforme, sono arrivato a questa cosa qua. Cosa voglio fare? Beh, innanzitutto magari io voglio non farmi vedere e se vedete il software è già tranquillamente attivo. Immaginiamoci che io voglio vedere tutti i server in Italia o meglio voglio vedere dove sono. Se vedete qui c'è un fantastico server ma se vedete io posso anche dire di voler offuscare il mio IP e quindi di essere in Albania. Come vedete io ho fatto doppio clic nella barra qua a sinistra e qua sotto mi dice che sono protetto e sono collegato ad un server in Albania. Se io mi voglio scollegare basta che clicco qua e posso decidere di scollegarmi per determinati minuti oppure scollegarmi tranquillamente senza nessun problema. Come vedete in questo momento io non ho attivato NordVPN ma se ad esempio volessi andare su un qualsiasi server basta che ci clicco sopra, mi posiziono qua con il mouse oppure cerco qua a sinistra nella cosa. Esempio voglio dire che sono in Spagna, se vedete io ho fatto doppio clic e in questo momento sto navigando tramite i server in Spagna. Come vedete il sistema non concerne una grandissima conoscenza informatica di quello che possono essere le configurazioni, è autoconfigurante, è altrettanto vero che io qua in alto ho la possibilità di andare a fare tutta una serie di cose ma se sono un utente base ho la tranquillità di andare a installarlo e decidere dove andare a collegarmi. Una volta che clicco su questi vari poppini sono collegato direttamente e a quel punto io ho tutti i servizi attivi di cui parlavo prima, quindi i servizi di privacy, i servizi che mi permettono di offuscare il mio pc eccetera eccetera eccetera. Ovvio che qui posso andare a fare tante cose, se vedete posso dirgli di autoconnettermi, posso dire di chiudere determinate applicazioni, insomma posso fare veramente meravente tanto. Qui ce ne va bisogna capire un po' di cose e sappiate che sul sito comunque ci ha spiegato tutto bene cosa fare, ma ripeto quello che dovete fare da pc è semplicemente andare a pagare, installare tutto e poi decidere dove collegarvi. Una volta che siete collegati siete a posto, non dovete fare nient'altro, ci pensa questo software. Se guardate io adesso faccio scollegati e non sto usando la vpn, ma veniamo a un'altra informazione fantastica, veniamo a di prezzi perché ragazzi qua in questi giorni ci sono delle offerte veramente speciali. Vi porto di qua al browser, se vedete c'è un'offerta esclusiva che vale veramente per poco tempo, si risparmia il 68%, la si paga 2,97€ al mese se si fa un piano di due anni, 3,93€ per un piano di un anno e 9,56€ per il piano di un mese. Il mio consiglio è, se avete visto com'è facile e vi può servire, io direi che va bene 9,56€ un mese, ma a quel punto lì provatela un anno visto che 2,97€. Questo prezzo è solamente per poco tempo, io in questo momento ho cliccato sull'home page del sito per farvi vedere che manca veramente poco, dopodiché quei prezzi scontati del 68% non ci saranno più. Quindi, se siete interessati ad acquistarla, io vi lascio il link in descrizione, di modo che potrete avere uno sconto molto molto particolare, solo per poche ore, per social and tech. Ricordatevi, la sicurezza innanzitutto quando si naviga ad internet e quindi fatelo con NordVPN. Grazie a tutti, o ricordatevi il link in descrizione.